La prima posizione delle cose che non sapete di Baby K, c'è... Te lo posso dire dopo la pubblicità? Vuoi creare questo mega suspense totale? Tipo io non sapevo che ci avessi scritto gold qua, c'è un tatuaggio gold. Fratello, ciocca bene, ciò gold e platinum. Ah, fantastico. E self-made, grazie, rivederci, una farfalla e un'altra roba dietro. Tanta roba. Bene, va bene, la rubrica la chiudiamo così, o sport, o vuoi tenerci... Gold e platinum ci sta comunque. Eh beh, non tutti sanno che è, ti sei tatuata gold e platinum, che sono i dischi che hai ottenuto. Sì. Poi sai che c'è uno step... Ma in realtà allora l'ho saltata direttamente, sono andata diretta sui platini. Scusami, questa è quanto sono azzarra, vedi? Giusto, bene, fantastico.